oggi non potete capire che ha quanto è importante questa partita è partimo subito bene regà subito subito aggressivi determinati regà quando arriviamo sul fondo si scarica si guarda il compagno e si scarica dietro e soprattutto quando ci avete la possibilità dentro l'aria di tirare in porta tiramo in porta oggi in tribuna c'era Matteo Viverito Matteo Viverito aveva 9-10-5 stava domani e sapeva molto probabilmente che non avevano più poteva venire benissimo è 10 e mezza è 1, è 10, è 9 e mezza qua allora noi oggi affronteremo questa partita tu ti metti a mezzo destro con Flavio che farà il trequartista ho deciso di essere aggressivo regà potevo mettere lui centrare il basso e le due mezzali il primo tempo già gli dobbiamo far vedere chi cazzo siamo devi stare meglio sui cazzo vangoli ok ciao 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 Amo, 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 amo! Grazie, grazie! Grazie, grazie! Grazie! Perché in queste partite qua, chi ci mette più voglia, chi ci mette più rabbia, chi ha più voglia di fare risultato, ne esce fuori. Abbiamo atteggiamento, ragazzi, abbiamo atteggiamento. L'atteggiamento quello giusto è, Giacomo, se ti fa male, se ti fa male mi chiami, me lo dici e io faccio il cambio. Non ci possiamo permettere giocatori a mezzo servizio, ragazzi, non ce lo possiamo permettere. Dai dietro, dai dietro! Andiamo! Andiamo! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.